Dimmi la verità, quanto ti prepari le frasi che dici, le frasi classiche dal tè caldo a... Alcune tipo il tè caldo sono pensate, diciamo alcuni tormentoni, però quelli che vengono meglio sono quelli che vengono di getto, cioè non quelle che... Cioè andiamo a Berlino ti è venuta così? Andiamo a Berlino è venuta così perché io con un mio caro amico che adesso non c'è più, con il quale si chiama Maurottino, con il quale andavamo in giro durante i mondiali in Germania, lui diceva sempre Fabio chiudiamo le valigie, andiamo a Kaiserslautern, perché partivamo e andavamo a Kaiserslautern e allora lì mi è venuta proprio questa cosa che era diventata un po' un nostro oggetto, chiudiamo le valigie, andiamo a Berlino.